segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te una pagina di televisione forte cairo rivederla è non è che come come insegnava ai tempi berlusconi pensava al profitto fatto con quelli sport di quella trasmissione no ma ricordato quelle elezioni le elezioni del 2013 sulla carta erano già vinte da bersani e non so se anche a seguito di questa trasmissione furono riequilibrate a vantaggio di berlusconi tant'è che non si riuscì a fare un po è vero un po c'è un altro discorso a fare paolo mieli forse l'ha ascoltato e anche fatto questo ragionamento più volte bersani prese molto meno prese il 25 per cento ma prese il 25 per cento il movimento 5 stelle bisogna chiedersi questa è tutto quello che abbiamo visto oltre a favorire per la sua parte berlusconi non ha favorito l'anti berlusconismo più forte che era quello del movimento 5 stelle sicuramente sì però in questo facciamo non c'è stato un calcolo trentennale sbagliato della sinistra istituzionale che pensava magari con una trasmissione come questa di avere acqua al proprio mulino invece iniziava il decennio del movimento 5 stelle dell'antipolitica poi hanno dato la colpa dell'inchiesta del corriere della sera la casta ma è lì che è iniziato è lì no no iniziato dalla casta questo non so non so non so sempre già